La menza del comune di Teramo che partirà lunedì, ovvero il cosiddetto centro cottura, poteva essere avviato prima, lo sostiene il consigliere Ivan Verzilli. Lei come replica, sessore? Sono estremamente dispiaciuto nel constatare che evidentemente i consiglieri comunali non hanno neanche la buona volontà di andare ad approfondire gli argomenti, ma si fermano a quella che può essere una lettura superficiale. Il servizio delle menze di Teramo è ripartito con le stesse modalità già a settembre, le stesse modalità che da anni accompagnano la popolazione teramana. È stato contestato il fatto che i pasti arrivassero addirittura dall'Aquila? Ma è quello che è sempre avvenuto al comune di Teramo, io non vedo la notizia, visto che in passato, al di là del colore politico dell'amministrazione coinvolta, è sempre avvenuto che in tutte quelle strutture che non hanno una cucina al proprio interno il pasto fosse veicolato. E quello che avveniva prima di questa amministrazione è quello che è avvenuto nella prima fase anche con questa amministrazione. Dove sta piuttosto la notizia? Nel fatto che il comune di Teramo, nel bando che ha previsto questa amministrazione, quindi nel 2019-2020, ha previsto che la ditta che si aggiudicava all'appalto doveva svolgere i lavori per la realizzazione di un centro di cottura di proprietà del comune di Teramo. È quello che è stato fatto, probabilmente con qualche giorno di ritardo, che a nostro avviso però è fisiologico, visto l'emergenza che vi è stata, il blocco dei termini e dei tempi, la difficoltà di consegna dei materiali e tutto il resto. E quindi siamo arrivati ad oggi ad avere finalmente un centro di cottura di proprietà comunale. Finalmente il comune di Teramo, dopo decenni, si dota di un proprio centro di cottura. Quindi tutti i pasti, al di là della ditta che si aggiudicherà all'appalto, verranno realizzati a Teramo, nel centro di cottura, sito in via del Baluardo, in pieno centro, e da lì poi verranno consegnate alle scuole. Questa è una novità estremamente importante che segna come l'amministrazione comunale sta lavorando per offrire dei servizi di qualità. In conclusione, mi permetto di dire che mi sarei aspettato dal consigliere Verzilli una maggiore attenzione a questo settore nei mesi passati, perché sento l'obbligo morale, politico, istituzionale, di ringraziare ancora una volta tutte le lavoratrici del settore, tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questi mesi sono tra quelle fasce che hanno pagato più di altri questa crisi e questa emergenza, sono tra coloro che hanno dovuto attendere mesi per vedere riconosciuto un diritto, vedere erogati i fondi previsti dagli ammortizzatori sociali, dei ritardi, quelli sì, insopportabili ed inspiegabili. Probabilmente il consigliere Verzilli poteva attivarsi prima e rivolgersi alla sua forza politica di allora. Mi rivolgo alla Lega, quindi non al Movimento 5 Stelle, non vorrei che lui si confondesse, visto i ripetuti passaggi di gruppo, e quindi stesse sul tema e cercasse di difendere i lavoratori piuttosto che fare vuote polemiche.